Siamo ancora alla Duyador, grande manifestazione dei vini, direi che sta andando oltre le più rose aspettative, grande affluenza di pubblico anche in queste giornate, segni tutti positivi dalla vendita delle bottiglie, alla degustazione dei vini, sia al concorso nazionale, sia per quanto riguarda le barbere a Palazzo Ottolenghi, sia per quanto riguarda l'aschi spumante a Palazzo Alfieri. Direi anche un momento importantissimo, il piatto d'autore, siamo qui con Maurizio Cornero del ristorante La Fioraia di Castello Danone, chiediamo subito com'è andata stasera, com'era il piatto che è stato presentato. La serata è andata benissimo, è stata piena affluenza a ogni turno, stiamo aspettando l'ultimo turno ma anche quello, sì, presente e esaurito, bellissima manifestazione, come ogni anno abbiamo sempre superato i 120-125 coperti a turno. Per quanto riguarda il nostro piatto, era un riso, un riso carneroli, che veniva mantecato con un vino passito locale della Gongorzola di Novara e sopra viene avvinato dei bocconcini di petti di pollo con delle impanate nella tonda gentile, questa nocciola piemontese, per rendere ovviamente omaggio al Piemonte e alla Duia, ovviamente. Direi proprio un piatto classico piemontese perché con il riso e con gli altri ingredienti direi che siamo tutto in Piemonte. Ma ecco, è importante in questi casi anche l'abbinamento con i vini? Certo, i nostri vini abbinati erano due vini, ovviamente piemontesi, erano due barbere, uno di Cascinagilli e l'altro Orimbauda. Naturalmente barbere d'asti di OCG che sono un po' la bandiera del nostro territorio insieme all'asti spumante che veniva servito con i dolci. Ecco, dici ancora qualcosa sul tuo ristorante e direi anche sulle specialità che fa la tua cucina. Allora, il mio ristorante è il ristorante La Fioraia, cogliovato dai miei genitori, da mia sorella, da mia ragazza e qualche collaboratore. Sito in Castello D'Annone, provincia di Asti ovviamente. La nostra cucina è classica, tradizionale, piemontese, con qualche influenza della cucina francese e qualche piatto creativo, ma sempre rimanendo sulla tradizione assolutamente. Il nostro piatto più forte e più conosciuto da sempre è lo stufato, questo brasato cotto nel vino Barbera Vecchio per lunghe ore, a cui viene abbinato nelle varie stagioni o verdura di stagione, oppure polente in inverno. Altro piatto ovviamente è l'agnolotto classico, il deco-asti, abbiamo la deco-denominazione di origine comunale di Asti. Altri piatti possono essere i dolci, panne cotte, bunette, fatte in diverse maniere, ma sempre cercando di avere un filo conduttore con il territorio. Sì, direi che la Fioraia è uno dei ristoranti di elite del nostro territorio, una vetrina importante dell'enogastronomia, anche ai fini turistici. Credo che la Stigiano possa avvantare una serie di ristoratori che fanno veramente la promozione del nostro territorio. Grazie Maurizio, siamo a giovedì sera, abbiamo girato la metà della duia, increscendo, credo che ormai si possa dire che possiamo andare solo più in disesa, sta andando tutto bene e chiuderemo domenica 19 in concomitanza col Palio di Asti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.